Settimana importante quella della Virtus, a caccia dei giocatori in tutti i reparti per dotare il tecnico Baroni di una compagine competitiva in prospettiva salvezza. Tra i pali l'erede di Nicola Leali porta il nome di Luigi Sepe, classe 91 del Napoli, ma per due anni al Pisa. L'accordo per il prestito sembra ormai in dirittura d'arrivo e lui adesso in pole davanti a Vincenzo Fiorillo della Sampdoria e Wojciech Paloschi dell'Udinese. In difesa via libera Giuseppe Prestia che ha firmato un contratto quadriennale con il Parma e che dovrebbe accasarsi a Lanciano in prestito secco. Prestia difensore classe 93 arrivato in Emilia dopo la scadenza del suo contratto con il Palermo. Prestia che nella scorsa stagione ha militato con la maglia dell'Ascoli ben figurando in Serie B nonostante la retrocessione può contare 25 presenze in cadetteria. Inoltre era un punto fermo della nazionale Under-19 italiana. In settimana il Sassuolo dovrebbe girare salvo in toppi Diego Falcinelli ancora per un anno in rosso-nero. Un attaccante graditissimo a tutta la piazza e che ha ben figurato con la maglia del Sassuolo nel trofeo team contro Juventus e Milan. Domani alle ore 18 l'amichevole a Guardia Grele contro la Virtus Cupello a seguire la presentazione ufficiale delle nuove divise. E ancora si giocherà nel trofeo Guglielmo Maio contro l'Avellino e l'11 agosto sarà già tempo di partite ufficiali. Infatti arriverà la Coppa Italia.